Ehi ragazzi, sono qui al Club del Fumetto, guardate che meraviglioso quadro alle mie spalle Che devo dire ragazzi? Siamo qua, siamo qua, domani aspettiamo Elena Insomma, questo è un momento, insomma, come dico io sempre Insomma, lieto, lieto, lieto Guardate le mie spalle Ci sono i quadri, alcuni quadri esposti Qui, qui, qui è una meraviglia Ragazzi, il tavolo, facciamolo vedere Lo stiamo già preparando ancora Insomma, vi aspettiamo ragazzi E guai a chi non viene domani a trovarci, anche solo per un saluto Vi aspettiamo domani dalle ore 17 alle 19.30 al Club del Fumetto Con Elena Mirulla